Il fatto che la società medico S.P.A., l'unica produttrice in Italia di pacemaker, abbia scelto il reparto di cardiologia del Bernardo Lombardo per impiantare un catetere su un paziente, dimostra come il nostro reparto sia davvero uno di eccellenza. L'eccellenza è quella a cui noi tendiamo. Oggi è un importante riconoscimento quello che questa importante azienda del nord ci ha fatto, quella di scegliere noi canicattì, apparentemente un centro periferico che si sta sviluppando e sta crescendo seppur in periferia, e che sceglie un intero gruppo per impiantare per la prima volta il suo catetere. Catetere nuovo, catetere costruito interamente in Italia e che viene sperimentato per la prima volta a Canicattì in Sicilia. Il tutto promuovendo in maniera gratuita l'accessione di questo. Lei è stato il cardiologo che ha impiantato questo catetere, vogliamo parlare su quale paziente, l'età del paziente, cosa accusava? Il paziente aveva un blocco atrioventricolare, rientrava nella tipologia per cui il ministero ha dato l'autorizzazione all'impianto di questo catetere, sembrava fatto a puntino e pertanto è stato scelto proprio questo paziente. Il paziente è versato in condizioni straordinarie, nel senso dopo pochi minuti all'intervento il paziente si è quasi alzato, anche perché la metodica consente di abitare una vita all'interno del cuore stesso, in una parte che si chiama setto, e ne diventa subito un tutt'uno con esso, quindi non ci sono più problemi di sposizionamento, e c'è il vantaggio dell'estrema facilità di impianto in quanto ad introdurse non sono due cateteri, ma soltanto un catetere che ha una sensibilità in una parte del cuore che è l'atrio, mentre ne stimola soltanto il ventricolo. Motivo di grossa soddisfazione, non solo per il reparto ma anche per lei, dottor Suterasardo? Sì, tengo a sottolineare che è il gruppo quello che fa la differenza, e la vittoria, e diciamo la scelta, va ripartita in termini uguali per tutti gli otto dirigenti medici che attualmente compongono il nostro reparto. La scelta nasce quasi casuale, nel senso che in uno dei corsi fatti in centri veramente di eccellenza al nord, ho avuto modo di conoscere le dirigenti dell'azienda, e chiedendomi dove lavorassi, ho detto che lavoravo a Canicattì, da buoni nordici pensavano che fosse una battuta, e mi dissero, sorridendo, mi dissero dove era la mia vera locazione dove io lavorassi, e ho ribadito che fosse Canicattì, e allora l'ho sfidati a venire a guardare a Canicattì, che era un centro di tutto rispetto, non di rilievo perché non abbiamo naturalmente le strumentazioni e le attrezzature di grosse e imponenti strutture del nord, ma nel nostro piccolo lavoravamo in maniera adeguata. Hanno accettato la sfida e oggi qua vengono a inviandare il loro primo catetere, qua in Sicilia e nel centro siciliano di Canicattì.